un po' di fiuto, poi c'è anche la persona sua e mia perché non sto iniziando, infatti ci tengo particolarmente alla testimonianza di un comprovato dirigente aziendale, sportivo e il detenuto anche papà di Andrea, quindi il Presidente Romiglio, siccome racchiude un po' l'essenza del papà ideale, dello sportivo, sicuramente è un bel complice un complimento, ma devo dire che ho trovato nella Pronovara la stessa passione che ho profuso negli anni del Volley Novara, nel quale sono Presidente, quindi vedo un connubio di sport che in questo senso non possono che far bene anche alla comunità locale, credo che questo sia positivo per tutti e quindi vi permetto da un lato di ringraziare l'assessore Andretta, che ho già ringraziato anche come Presidente a Pallavolo, ma parmento anche come ha fatto l'amico Colombo che nella veste sia di Presidente a Pallavolo che di Consigliere della Pronovara non posso che ricordare il problema delle finanze, quindi mi rendo conto che il compito dell'amministrazione economale sia notevolmente difficile perché se tanto mi da tanto, immagino che molti altri dirigenti di altre società vengano a esporre il problema delle finanze, quindi mi chiedo ma sono convinto che non solo per il peso politico e la stazza dell'assessore riuscirà sicuramente a spingere lo sport novarese e a darci una grande mano, a parte le battute comunque direi che questo evento è di assoluta importanza nazionale, quindi non fa che non venire tutti noi e darci grandi soddisfazioni, in particolar modo ci dà la voglia di fare meglio in futuro e speriamo di avere altre opportunità per mettere alla prova le nostre capacità. Grazie, grazie Presidente.